Addio figlio, porti con te sogni e speranze. Sarà un emarginato, lo uccideranno. Come? Sarà un dio per loro? E se un bambino sognasse un destino diverso da quello che la società gli ha assegnato? E se aspirasse a qualcosa di più grande? Mio figlio era sull'autobus. Ha visto quello che ha fatto Clark? Tu sei la risposta alla domanda siamo soli nell'universo. Posso continuare a fingere di essere tuo figlio? Tu sei mio figlio. Devo credere che sei qui per un motivo. E anche se dovessi metterci tutta la vita, lo devi a te stesso, scoprire questo motivo. Come trovare qualcuno che cancella le proprie tracce da una vita? Per alcuni è stato un angelo custode. Per altri è un fantasma, sempre fuori posto. Darai agli abitanti della Terra un ideale per cui battersi. Si affretteranno a seguirti. Vacilleranno. Cadranno. Ma col tempo si uniranno a te nella luce. Col tempo li aiuterai a compiere meraviglie. Credi che tuo figlio sia al sicuro? Io riuscirò a trovarlo! Mio padre credeva che se il mondo avesse scoperto chi ero, mi avrebbe rifiutato. Era convinto che il mondo non fosse pronto. Tu cosa pensi? Cosa significa la S? Non è una S. Nel mio mondo significa speranza. Beh, qui è... una S. Che ne dici di... su... Scusami. 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 Scusami.